Io sono fatto l'idea che Agnelli e Lottito, per andare poi all'oggetto della sua domanda, debbano parlare lo stesso linguaggio, perché rappresentano con storie diverse un calcio che sa fare i conti, che non si indebita, che non fa un passo più lungo della gamba, ma che deve modernizzarsi e quindi io auspico che si trovi una soluzione, che non ci siano maggioranze e minoranze, penso ci voglia un'animità su un progetto solenne che cambi il calcio italiano.